la mettiamo con la stampa in dritto verso il basso considero sempre questo come il mio bordo e lo faccio arrivare al centro secondo il mio schema di taglio questo è il centro davanti ripiegatura della stoffa dritto filo è dove c'è sulla schiena la linea traccheggiata e va assorgiata con la stampa rivolta verso il tessuto quindi dove c'è la ripiegatura della stoffa io appoggio in centro questo è il collo la spalla e il giusto con il punto vita stessa cosa per l'altra parte eccolo qua così rivolgo verso il tessuto prima di passare alla confezione bisogna ridisegnare tutti i margini del cartamodello lungo la stoffa e poi ricordarsi di segnare i vari riferimenti per l'attaccatura delle delle maniche e altri dettagli delle persone che non le truono 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti